Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui un po' agli albori, diciamo tra virgolette come ai tempi quando avevo aperto il canale in questa dimostrazione diciamo di questi funko, questi ultimi funko acquistati e ragazzi non siamo più finalmente diciamo tra virgolette in questo sbustamento o questo sbusta boxing di carte Pokémon anche se ahimè ragazzi lo dico però ovviamente scherzando come vedete 3 di 4 funko sono funko riguardanti i Pokémon come potete vedere e ragazzi però sono ovviamente funko che era obbligo a prendere visto i 25 anni dei Pokémon e quindi i Pokémon principali li hanno stampati da funko a parte Bulbasaur che l'avevano fatto molto tempo fa ma ahimè non si riesce a trovare vedrò se riuscirò a trovarlo e poi ragazzi abbiamo questo Deadpool anche lui col suo anniversario non ricordo adesso se sono tipo i 30 anni se non ricordo male della sua nascita comunque e adesso ragazzi vi farò vedere uno ad uno nel dettaglio e ovviamente sarà un video molto breve però almeno parliamo un po' la tipologia di video ok ragazzi partiamo subito con Pikachu come potete vedere stranamente con Pikachu, sono scritto Pikachu e non in tutti gli altri nomi come potete vedere è il numero 353 in questo caso, molto carino so che anche c'era la versione quella un po' pelosetta che costava un pochettino di più ma l'ho vista dopo aver preso questo quindi giustamente ormai avevo questo quindi non sono andato a prendere quello dell'altro tipo c'era anche ovviamente la versione gigantesca che sinceramente non ho mai avuto un funko così grande ma prima o poi ne prenderò uno di un tipo vedrò quando e quale prendere come vedete dietro non ci sono gli altri pokemon in questo caso abbastanza strano però c'è il suo fulmine come potete vedere è anche dietro lo sfondo vi dico già in anticipo che non lo tirerò fuori dalla confezione in questo caso questa è la parte superiore e questo funko si vede che è molto bellino comunque anche chi comunque lo tira fuori lo mette in esposizione ci sta molto bene vedo che è fatto in Vietnam questo in questo caso è molto bellino ragazzi andiamo subito con il prossimo funko ok ragazzi siamo qui con il grande Charmander ragazzi come potete vedere lui invece è stato scritto anche nelle altre lingue come potete vedere c'è scritto anche Salamence e Glumanda non so in altre lingue siano ed è il numero 455 come potete vedere sullo sfondo in questo caso giustamente abbiamo il fuoco lui è anche in una posizione abbastanza diversa come un po' di attacco barra skateboard diciamo tra virgolette qua ripete sempre il nome in tutte le lingue qua sto notando adesso è un po' baccatina la scatola però va bene nulla di grave qua rivediamo sempre lui dietro a metà e il simbolo della fiamma e qua sempre come al solito come sono fatti la testa sempre di Charmander e anche questo vedo Made in Vietnam quindi a quanto pare tutti fatti in Vietnam quindi ragazzi andiamo in Vietnam e recuperiamo tutti i funko a basso prezzo e molti per carità preferiscono sempre Charmander barra Charizard invece ragazzi quello che preferisco io ma ormai lo sapete è quello che adesso vi mostro subito dopo questo bellissimo comunque Charmander ok ragazzi siamo qui con il pokemon che preferisco in assoluto con questo fantastico Squirtle che anche lui è scritto come vedete vedere nelle altre lingue quindi c'è scritto Carapuce e Shiggy quindi Shaggy di Scooby Doo vabbè a parte gli scherzi e in questo caso era il 504 mentre non mi ricordo se l'ho detto ma Charmander era il 455 quindi molti numeri di differenza tra un pokemon e l'altro qua come potete vedere è sempre il nome ripetuto questo è lo sfondo dove anche qua c'è dietro la goccia sia qua dietro che qua sullo sfondo dietro e sempre Squirtle non c'è l'elenco degli altri pokemon non ho ben capito come mai probabilmente perché ripeto sono stati fatti con un numero molto differente rispetto a quello precedente quindi giustamente non c'erano qua abbiamo sempre Squirtle ripetuto in questa sua posa dove ci vuole abbracciare tutti anche se con questi occhi neri fanno abbastanza impressione alcuni pokemon tra virgolette e sinceramente sì molto molto bello chissà se faranno un Blastoise quello sicuramente anche andrò a prenderlo ragazzi e adesso andiamo con l'ultimo funko che è l'unico diverso con i pokemon ma anche lui altrettanto super mega faigo ok ragazzi eccoci qui con l'ultimo funko come potete vedere è quello di Deadpool per i 30 anni come vedete da dietro ve lo ho fatto vedere subito e come potete vedere è una special edition solo in esclusiva così dicono al funside barra games academy e come potete vedere ragazzi è un Deadpool bubble head con gli occhiali da festa e per carità molto bellino non ve lo tiro fuori però si vede che infatti è il collo da bubble head con questi occhiali da compleanno e queste pistole finte giustamente da festa che hanno quel perucchietto da che fa rumore molto bellino è il numero 783 come detto e questa è la sua scatolina ragazzi qua il suo nome qua in parte il funko un po' visto nel dettaglio qua sempre sotto anche questo tutti mandi in Vietnam e come potete vedere ragazzi invece in questo caso ci sono tutti i Deadpool fatti per l'occasione diciamo e quello che a me piace veramente tanto è questo Dino Pool che penso che andrò a prendere più avanti credo e come potete vedere vi ripeto è per i 30 anni dovrebbero essere ripeto di Deadpool dove c'è scritto nerdy 30 years molto bellino un evento molto particolare Deadpool è penso il mio supereroe preferito anche se fosse di supereroe è una cosa abbastanza particolare dato che bisogna capire se effettivamente è un supereroe o meno perché dipende un po' da quello che combina però molto apprezzato bellissimo funko secondo me molto carino anche questo ci sta molto bene da tirar fuori per far muovere la sua fantastica testa o magari mettere addirittura in auto ragazzi questo veramente bellino ovviamente gli adesivi della Special Edition e Limited Edition rimarranno così da acquisire un super mega hiper valore ragazzi ok ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto vi abbia fatto ovviamente piacere vi abbia dato anche interesse vi abbia mostrato effettivamente questi funko e magari vi abbia spinto ad acquistarli anche a voi quindi ragazzi come al solito vi ricordo di lasciare un bel mi piace qua sotto per ovviamente supportarmi commentare con qualche suggerimento vostra proposta o comunque un parere su questi funko iscrivervi ovviamente al canale se ancora non l'avete fatto e se non lo siete ancora ovviamente perché vedo che comunque i miei video fanno tante visualizzazioni ma non vedo gli iscritti quindi ragazzi iscrivetevi fatemi crescere questo canale arriviamo su alle stelle conquisteremo il mondo poi ragazzi ovviamente condividetelo così raggiungeremo sempre le stelle come vi ho detto vi ricordo di leggere anche bene 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 la descrizione perché lì ci sono qualche link utile e anche il mio fantomatico canale Twitch sì che l'ho già detto ma riprenderò presto perché per un attimino vedere quelle tempistiche con qualche gioco succoso perché ormai Warzone per carità ci gioco con i miei amici ma è veramente raro e noi ragazzi dopo tutta questa pappardella con i saluti come al solito vi ricordo che ci vedremo in un prossimo video con settimana prossima io intanto vi saluto e vi dico ciao ciao